Ancora un furto all'ex ristorante Il Torrino alle porte di Arezzo. I manette sono finiti, tre giovanissimi, un'altra ragazza minorenne è stata invece denunciata. A scoprire e fermare la baby banda di vandali è stata la polizia. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo si sono insospettiti infatti per la presenza di un'auto parcheggiata nei pressi del ristorante ormai dismesso da tempo. Dentro c'erano quattro giovani che si erano introdotti all'interno della struttura rompendo una porta di vetro a colpi di bastone e avevano già compiuto all'interno diversi danneggiamenti. Non avendo trovato molto da rubare avevano infatti scaricato la propria frustrazione rompendo piatti e bicchieri. Inoltre i giovani si erano accaniti su arredi mobili trovati completamente divelti e attrezzature di cucina. I uomini delle volanti hanno inoltre effettuato una perquisizione all'interno dell'auto utilizzata dal gruppo e è stato ritrovato così un palmare rubato da dentro il locale. Per questo motivo i tre ragazzi maggiorenni di 20, 19 e 22 anni, due italiane ed un ragazzo romeno ma residenti in Italia da tempo, sono stati arrestati per furto e danneggiamento aggravato mentre la 15enne è stata denunciata in stato di libertà. Solamente una settimana fa sempre la polizia aveva arrestato un 73enne che era stato sorpreso a caricare in auto quadri, lampade e vasi rubati all'interno dello stesso ex ristorante.